Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Un'infezione presa in ospedale, dovuta alla mancata applicazione di qualsiasi protocollo sul trattamento delle piaghe da decubito. Questo avrebbe ucciso, secondo i familiari, una donna di 75 anni che era stata ricoverata a Pescara. La procura del capoluogo abruzzese con il PM Rosangela Di Stefano ha aperto un fascicolo di indagine al momento a carico di ignoti, proprio per accertare le cause del decesso e far svolgere l'autopsia dopo che è stata ricoverata all'ospedale di Popoli il 27 giugno. La famiglia dell'anziana, assistita dall'avvocato Chiara Rinaldi del Foro di Bologna, ha presentato denuncia chiedendo di valutare diverse omissioni in particolare legate alle condizioni in cui era stata dimessa da un precedente ricovero all'ospedale civile di Pescara con gravi lesioni da decubito e altre patologie. E la procura nel pomeriggio conferirà l'incarico al medico legale Cristian Dovidio, mentre i parenti della donna hanno nominato come consulente di parte il dottor Alessandro Delrico. La denuncia della famiglia dell'anziana, che aveva l'Alzheimer e altre patologie croniche, segnala che la morte è stata dovuta alle conseguenze di un'infezione, come si diceva per la mancata applicazione del protocollo sul trattamento delle piaghe, che ovviamente non c'erano prima del ricovero da febbraio a maggio e che ormai erano troppo gravi da medicare a casa. Inoltre la famiglia sottolinea che non sarebbe stata fatta vigilanza sulla paziente, che al momento della dimissione, oltre al covid, era risultata positiva ad almeno due batteri di origine ospedaliera. Per questo è stata chiesta l'autopsia, l'acquisizione delle cartelle cliniche e di valutare eventuali responsabilità del personale sanitario che l'ha avuta in cura.